Elisa domenica in oggi, vi proprio, 8 maggio 2022, per la prima volta raccontate la sua carriera dell'infanzia, esibizioni, filmati del passato, un bel siparietto sulle note dei grandi Pink Floyd. Ma ecco che ci sono stati momenti di puro divertimento, alla battuta di Mara Venet non riusciva più a smettere di ridere, per i tempi ricordo di Mara Venet, nelle monate con De Vola avrebbe giunto Elisa, risata a crepapelle, Elisa ripercorre il presente, forse anche getta un occhio verso il futuro, fiduciosa forse più che mai, cerca di raccontarsi, di viversi, ma soprattutto di essere sempre più divertente, in quei momenti piacevoli e riequilibrati che ci sono stati oggi, 8 maggio 2022 e a domenica in, da Mara Venet. Si spende anche però nel mondo del sociale, l'ultimo disco con tante canzoni piacevoli che riguardano proprio il nostro pianeta, la terra e il futuro che avremo e quello che ci aspetta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua da Nara 2 da tutto, ciao a tutti, buona giornata, buona serata, questo video non vuole vedere la presa di Elisa, ma solo informare eventuali persone, ciò a tutti.